Bastoni per Bissek, braccetto di sinistra per braccetto di destra. Il gol segnato oggi dall'Inter contro il Bologna rappresenta al meglio lo stile di gioco di Simone Inzaghi. Nel 3-5-2 molto spesso si riesce a creare delle situazioni dove il quinto di sinistra riesce a fare l'assist per il quinto di destra. Ma da terzo a terzo? Da braccetto di sinistra per braccetto di destra? È qualcosa di pazzesco, perché oggi abbiamo visto Bastoni fare l'assist a Bissek. Bastoni che fa un assist che non ha senso e Bissek che si inserisce da esterno tutta fascia. Io molte volte mi sono fermato a parlare con voi di Simone Inzaghi, ma non posso essere l'unico qui a parlare sempre di Simone. Quest'allenatore merita tanti, tantissimi complimenti perché sta portando in alto noi italiani, perché all'estero tutti parlano di lui.